Bene ragazzi, ciao a tutti da Nauz, ritorniamo sulla carriera Formula 1 su PC, andiamo a fare immediatamente le prove e qualifiche, l'ho impostato ovviamente con un singolo giro. Sembra assolutamente un gioco diverso rispetto alla PlayStation, sembra anche più difficile. No, non mi ha fatto caricare l'assetto. E' sempre lui, Lewis Hamilton. La vedo malissimo questa qualifica. Dovevo fare qualche genero di qualifiche di ripere. Vivere per imparare un po' il circuito ragazzi, io non lo riportavo. E' sempre più difficile. E' sempre più difficile. E' sempre più difficile. L'eruzione non è per... Fatal Terz. La prima fila in griglia di partenza è loro. Che qualifiche di merda ragazzi, che qualifiche di merda. ha fatto già uno zero la prima gara, non posso fare uno zero anche la seconda, dai ragazzi. C'è da saper aggiudicarsi la vittoria odierna. e' sempre più difficile. E' sempre più difficile. Apergo! assolutamente lo scatto da fermo male come in Australia e qua bisogna fare la zig zag puttana era mi sbattono fuori abbiamo Stevens ed Erickson davanti vediamo le gomme più dure possibili vediamo di fare dai dai tagliato di brutto tagliato di brutto mamma mia ci sono presi ed Erickson mamma mia ti trovi in diciottesima posizione devi incedere quella posizione ha eseguito un sorpasso irregolare ma pata via il cuore dai Erickson non è coglione dai grazie a tutti grazie a tutti caperai ho caricato l'assetto ma non c'è ma vaffanculo ma sono un imbecile non è coglione dai Concentrato Senza assetto Competo con Ericsson Capisce Vediamo Cazzata è fatta Non caricare l'assetto E' la nostra chance migliore per passare nel settore 1 Attenzione Incidente più avanti sul tracciato Non sono ammessi i sorpassi Barriere gialle Ok Le macchine con molte dell'incidente sono state rimosse Puoi accelerare C'è avanti adesso Fermando a 4 secondi Non sono molto consumate Ma fa attenzione quando le carichi Ok Abbiamo usato circa un quarto Deci alburati iniziali Quindi ne rimangono tre quarti Eccolo lì Fernando Ora puoi rientrare ai boss Certo Eh c'è un bel trenino lì davanti Bisogna vedere quante Ho messo le super dure come me Comunque le dure Firmati ai boss Firmati ai boss Non ci pensa minimamente Ma non ci pensa minimamente Perché mamma è boss Non ci pensa minimamente 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 Perché mamma è boss Non ci pensa minimamente Perché mamma è boss Non ci pensa minimamente Perché mamma è boss Stai aumentando il tuo attaccio su Enningson, altri tre decimi di margine nell'ultimo giro. Benzina grassa la mettiamo quando entra nelle box. Quel treno lì non riesco a prenderlo. Ti stiamo aspettando rientrare a questo giro. Bravo Sebastian. Qualcuno è uscito di pista davanti a te e stanno sventolando la bandiera Java. La tua finestra del post stop sta per chiudersi. Stai correndo con le gomme leggermente consumate. Non ti preoccupare Alex. Si si va bene. Vabbè Barton aveva più trazione qui è normale che mi va via ma... Eh non l'ho fatto apposto. Sono incastrate le auto. Per un duello adesso con Fernando. Un pilota della Otrus sta per rientrare ai box. La sua squadra si sta preparando per il beat stop. E' la staccata adesso abbiamo l'attacco di chi? Attenzione Alonso! Mi raccomando fermate i box a questo giro. Più trazione. Ti ritrovi in settima posizione. Per quanto riguarda il carburante ti resta il 60% del pieno iniziale. Andiamo all'ala. Per quanto riguarda i box a questo giro. Distribuendo la pressione di frenata sulle ruote anteriori potresti ridurre il blocco di quelle posteriori. Il ristorante è passato in prima posizione. Ecco che si hanno già tutti pittato. Attenzione la ventura alle due spalle è morta come più nuove delle due. Trezza di Rosberg ha rotto. Fumata per Rosberg che si ritira. Ricorda di rientrare ai box a questo giro. no io ne faccio un altro ne faccio assolutamente un altro il giro non è vero andiamo in box perché mi hanno montato le stesse ma no mi hanno montato le stesse ma dai ma sto gioco è pagato dovevano montarmi le bianche guarda Hai solo una sosta a disposizione adesso, ultima sosta. Un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano. Cioè ragazzi, vi rendete conto, il computer mi ha rimontato le stesse gomme, ma vaffanculo va, non è che devo stare io ricordandoli di montarmi la mobile, ma dai, ma che cagata. Io vado così fino alla fine, comunque vado, ero squalificato, già lo so, però cioè, dai, prima di due gare, due zeri. Qui avevo fatto qualcosa di bello. 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 Qui avevo fatto la bai. Qui avevo fatto qualcosa di bello. Qui avevo fatto qualcosa di bello. Maldonado avrà un vantaggio di circa 5 secondi, continuo a metterlo sotto pressione. Niente, mi sono distrattissimo, incazzato, sono sfigato come il vero re. Stai guadagnando circa un secondo a giro su Maldonado. Il distacco da Ericssona sta aumentando, sei più veloce di 2 secondi a giro. Dai! Grazie! Grazie a tutti! Dai! Tanto mi squalificano! Dai! Taccate il colo di chi ha! Tivi alto! Tivi alto! Taccate il colo di chi ha! 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 Grazie a tutti. Non ci posso prendere. Ci stanno le rorebox, ma in realtà questi rivendi no però. Che devo fare? Entro e box. Che devo fare? 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 dalla ferrari a parte la mia scarsezza totale in questo cazzo di gioco la prossima gara dobbiamo iniziare a dare un segno perché sono due zeri ragazzi due zeri due gare due zeri la vettura delle tue spalle procede al massimo dei giri commisciati si prepara l'attacco ehi sono alex devo chiederti di non tagliare più le curve altrimenti i commissari ci penalizzeranno che tristezza ragazzi chiunque vedrà questo video mettete un non mi piace in massa ma veramente ma che tristezza ma che tristezza è il secondo si sta giocando al mondiale prestazione magnifica devono davvero andarne orgogliosi tutti i membri del team hanno partecipato a questo trionfo se venga costruttori siamo secondi grazie a 50 punti emito il 36 fetta attenzione rosberg solo 15 buon chi mi rai con un 0 20 praticamente quella per te signori cosa dirvi alla prossima gara ciao a tutti non dago si chiedo scusa per la veramente la pochezza di questa di questa gara al prossimo gp ciao a tutti